Era quest'oggi la giornata mondiale delle osteoporosi e per l'occasione l'Ulss 1 Dolomiti ha organizzato un punto informativo nell'atrio dell'ospedale di Feltre. L'osteoporosi consiste in una condizione silente e asintomatica di deterioramento dell'architettura ossa e di riduzione della massa minerale, con conseguente aumento della fragilità dell'osso e maggior rischio di fratture spontanee o a seguito di traumi di minima entità. Per questo è necessario fare costante informazione soprattutto nei confronti dei soggetti più a rischio. L'osteoporosi è una patologia che può essere dovuta a diversi fattori di rischio che corrispondono a una alimentazione scorretta, l'uso di alcol, il fumo, una menopausa precoce che può essere dovuta a diverse cause o l'uso di farmaci, quindi una osteoporosi di tipo iatrogeno. Una volta individuata la frattura ovviamente e dopo il trattamento di tipo conservativo e chirurgico bisogna però mettere in atto tutte quelle terapie e le indagini diagnostico-terapeutiche che permettono di individuare l'osteopenia, l'osteoporosi e eventualmente cercare di iniziare, intraprendere un tipo di terapia mirata a seconda anche della causa che ha portato questo tipo di osteoporosi.